...dall'intero consiglio direttivo nazionale. E' tanta gente che non avevano preventivato, che hanno chiuso tutto fino a domani sera, tutto a Torino, non passano autobus, non passano macchine, non passa niente. Immo fatto i giornalieri inutili. Vabbè, devo ritorno penso. No, non passano più, tutto a Torino. Vengono, ora, resi gli onori ai companoni della regione della regione della regione della regione della regione della regione della regione. Piemonte, della provincia di Torino, del comune di Torino e di tutte le comunità che si sono volute stringere attorno a questi sacri simboli della nostra patria. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Attenzione, adesso, grazie, 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 grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.